Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La scomparsa di Alessandro Venturelli rappresenta, ad oggi, un giallo che potrebbe essere sul punto di una svolta. Tutto è partito lunedì quando l'avvocato della famiglia del ragazzo scomparso è stato contattato da una ragazza, sicura che Alessandro sia vivo, certa di averlo riconosciuto in stazione a Livorno, assieme ad una ragazza. Sulla base di quanto dichiarato, indossava una maglia bianca e pantaloni scuri. A permettere alla giovane di riconoscerlo sarebbero stati i tatuaggi sul braccio di Alessandro e così sono ripartite le indagini, con la speranza di arrivare ad una soluzione del caso, con mamma Roberta Carassai, in prima linea, per poter riabbracciare, si spera, il suo Alessandro. Ora è tutto nelle mani dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che verranno esaminati frame per frame, per cui ci vorrà qualche giorno di tempo per arrivare a sapere qualcosa in più. Mamma Roberta, rivolgendosi in particolare ai Livornesi, li ha invitati a scattare una foto se mai dovessero vedere suo figlio. Intanto, per la famiglia Venturelli, il destino sembra per davvero essersi accanito, dal momento che oltre alla scomparsa di Alessandro, devono fare i conti con un gravissimo lutto. A comunicare la triste notizia del decesso del nonno Ruggero è stata proprio la Carassai, via social, scrivendo. Ora aiutaci dal cielo e aggiungendo. Ora sarà l'angelo custode di Alessandro. Una famiglia distrutta da una perdita avvenuta proprio mentre parrebbe essere vicini alla svolta nel caso di Alessandro. Certo che il destino sa davvero far male, non credete? In tantissimi sono i messaggi di cordoglio e vicinanza che hanno invaso il post, emblema di quanto gli italiani di buon cuore soffrano assieme ai familiari di uno scomparso e al loro dolore.